Le dimissioni di Conte sono innanzitutto una bella notizia per l'Italia, una persona non eletta che si sta svelando al servizio delle consorterie dei poteri finanziari e delle lobby europee. Piovono critiche pesanti sull'ormai ex presidente del Consiglio da parte del parlamentare salernitano Edmondo Ciriele di Fratelli d'Italia, richiamato alla presenza tra i banchi del Parlamento per questa crisi ferragostana. Il rappresentante di Fratelli d'Italia considera le dimissioni di Conte finalizzate a riavere l'incarico e formare una maggioranza ribaltonista con PD e l'EU. Insomma, lui e i Cinque Stelle, ha dichiarato Cirielli, pur di mantenere la poltrona, passano da un accordo con l'estrema destra della Lega alla sinistra del PD e di sema sinistra di Liberi Uguali. Insomma, una vergogna, una incoerenza spudorata, la definisce Edmondo Cirielli. Ed è critico anche il commento del deputato di Forza Italia, Gigi Casciello. L'intervento del presidente del Consiglio è persino in gran parte condivisibile, ma mi sono chiesto, si domanda Casciello, dove sia stato dal primo giugno dello scorso anno. Se la coabitazione con Salvini era talmente ingestibile, avrebbe potuto dirlo e dimettersi prima. Rispetto al nuovo governo, Casciello si dice preoccupato per l'Italia e per gli italiani con una crisi al buio che rischia di causare l'aumento dell'IVA con conseguenze drammatiche sui consumi e sui beni di prima necessità. Crede invece che sia corretto, come sta facendo il Partito Democratico dopo la prima apertura di Renzi, ragionare sulla eventuale possibilità di aprire un canale di dialogo con tutte le forze responsabili, il deputato del PD Piero De Luca, che non risparmia nel suo commento critiche al governo gialloverde, ricordando che ci sono più di 150 tavoli di crisi al mese, ancora senza soluzione, 600 cantieri bloccati e 27 grandi opere ferme al palo, senza contare il disastro sulle due misure simbolo quota 100 e reddito di cittadinanza. Ma il timing irresponsabile da Salvini per sfiduciare se stesso e l'intero governo è pericolosissimo, aggiunge Piero De Luca, il voto in autunno potrebbe portare il Paese all'aumento dell'IVA così come potrebbe esporlo a rischi finanziari. In questo contesto siamo quindi convinti, aggiunge il parlamentare del PD, che per arginare la deriva illeberale di Salvini serva provare a fare un tentativo serio per costruire un governo di legislatura. Ma se il Presidente della Repubblica dovesse decidere per il voto, noi saremo pronti a combattere democraticamente. Sia lo stesso Zingaretti a guidare il nuovo governo, invece la proposta avanzata da Federico Conte, parlamentare di Liberi Uguali, un governo di svolte e di prospettiva fondato su un patto politico con il Movimento 5 Stelle. La scelta, aggiunge Conte, potrebbe avere una ricaduta anche sulle alleanze locali, a cominciare da quelle regionali in Toscana, Emilia, Romagna, Campania, Calabria e Puglia.